Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sono il vostro caro oggi registro un vlog perchè io non ho mai registrato un vlog però oggi ve lo registro finalmente in tutta la mia vita da youtuber oggi vi porterò un vlog un vlog è quando per esempio tipo hai un appuntamento o qualcosa e tipo che poi lo vuoi fare a vedere non lo so credo così ora io ho stato la registro poi domani mattina continueremo il vlog fino a quando domani non andrò al circo perchè domani se non lo sapete farò questo vlog dedicato che domani me ne vado al circo con mia cugina Chanel e la mia compagna Andrea e niente ragazzi ora domani mattina quando ora vado a dormire e domani mattina quando mi sveglio farò vedere che faccio la dozione poi farò vedere che faccio tutto quello che voglio e poi quando è arrivata l'ora mi sistemo e me ne vado al circo ragazzi questo vlog durerà è il vlog delle 24 ore e dura fino a domani sera a luna ok ragazzi io vado a dormire e ci vediamo ragazzi ora prima di andare a letto sto registrando il vlog cioè sto registrando il continuo del vlog mentre mi faccio una partita a FIFA 18 e niente ragazzi ci vediamo domani mattina buonanotte bella a tutti ragazzi io mi sono appena svegliato che mi sono appena svegliata infatti sono ancora un pochino e spero mi è andata e stavo per completare il vlog ora io faccio colazione e poi ci vediamo più tardi bella raga a posto un attimo ok ora potrete vedere la partita che sto per fare che dura quanto dura aspetta vabbè buona e che è andata in galera? la tarta l'uglia del giardino no no ok ok Ora vingiamo! Forza! Spaccare! Ancora lui! La passa in tacco ma sbaglia! Ancora lui! Cerca e trova! Griezmann la passa! Prende palla Griezmann! Perde palla! Prende palla un titì! Un titì la passa Pogba! Pogba la passa Krante! Krante la passa Griezmann! Griezmann avanza 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 Dicò una cosa più grafica! Sì! Ho appena segnato con Griezmann! Guardate! Tom! E niente ragazzi! Ora si inizia a giocare normalmente! Ragazzi è pomeriggio e sono venuta a tagliarmi i capelli! Quindi ci vediamo più tardi quando andrò al circo! Mi sono cambiato! Sono con i capelli tagliati! E sono vestita ora! Sto aspettando che mia madre si veste! E così vado a prendere il mio migliore amico! Ragazzi sono con il mio migliore amico! E siamo andando al circo! E ci vediamo dopo quando arriveremo con le altre mie due cugine! E niente da vedere! Secondo te è vero che c'è il leon tigre oppure una cavolata? Ma secondo me non è cavolata! Perché ce n'è due in tutto il mondo! E quindi non credo! C'è un tigrone o un leon tigre? Vabbè comunque ragazzi! Ci vediamo quando arriveremo al circo! Bella a tutti! Siamo arrivati! E qua c'è in pratica il leon tigre! Tor! Guarda ma è gigantesco! Fai lo zoom! Vedo! 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 Se fai lo zoom la vedo! Lo trovi! Aspè! Aspè! Madonna! Buone! Mi stai eccitando troppo! Ma quello non c'è! Non si vede quello! Senti si vede! Non si vede! Ragazzi siamo troppo felici! perché abbiamo visto finalmente il leon tigre troppo te a voi è mare pilla ma siamo con la zona VIP ragazzi cosa si chiama Hulk 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 ora c'è un leone Chimea Chimea si domani comunque ragazzi sono due si chiamano ligri non sono ligri sono leoni mischati con le tigre bella bella raga siamo qua mi topi dammi le potate le tigre i leoni vado ragazzi vado ragazzi guarda guarda ok guarda 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 perca proia era sguazzata mia ma e qua c'è il primo e qua c'è il secondo io conviene farlo così madonna mia io sto fatta letto leone ma che si sta strangendo madonna mia io sto fatta letto E noi, il ragazzo d'arriano, il ragazzo d'arriano, Francesco, Eterna. Il ragazzo d'arriano, il ragazzo d'arriano, il ragazzo d'arriano. Il ragazzo d'arriano E ammiglio, secondo me, e' un assurtort Il ragazzo d'arriano un ri ótimo Il ragazzzo d'arriano Poverini, però li frustano. Grazie. Gli stanno rinchiando, poveri. Bravo, Francisco. Bravo. E' finito di passire. Che viene male? E' finito di passire. Vero? Eh. Madonna. Qua ci vuole, bro. Non vuole che ci sia un po'. Quello non vuole salire. Io la vuole accennare, m'bare. Se non so, se non vedete, lo aspettate. Mare lo sta frustando. Oh, tale, tale, tale. Mi inizicate. Io ti fanno con il levone, m'bare. Leone! Leone! Gira, perché ti faccio la cosa, Senti? Brava, ma non faccio. C'è un tesorrito. Che è bello. Leone! Ho finito, non mi chiedi. Non mi la voglio, non mi sono andata. Mentre a me piacevole, ma non faccio anche. Bra! Leone! Troppo figo, bro! Mi sono andato a 3-4. Bra, è vero! A le palle, questa. Io ho paura che qualcuno ci arriva proprio. Oh, bra, mi salta a gabbia. Te vieno sopra la pescilla. Bra! La storia, c'è il cuore. E' vero o no? Talè, la storia, c'è il cuore. Talè! Madonna mia! Madonna mia! Madonna mia! Troppo bello! Oh guarda quello, guarda quello Mi sta ringhiendo Madonna Lui è il mio boss Quello? Ah quello E' questo aggessivo Cristo Bravo 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 Angelo, sono tre parti o due parti? Di chi? Due! Io sono le otto in mare, me lo vengo! E mi so che riesci! Ma non è alle nove! Ah, fino alle nove perché poi possiamo andare là! E' un po' più? E' un po' più? Chi? Bravi! ok ragazzi noi ci siamo divertiti molto al circo siamo stati dei vip oggi ciao ragazzi